Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. In un'intervista straordinariamente intima e commovente a Verissimo, Roberta Capua, celebre conduttrice ed ex Miss Italia, ha aperto il suo cuore al pubblico, svelando un 2023 segnato da profonde perdite e da una rinnovata forza interiore. Conosciuta per la sua riservatezza, la Capua ha condiviso con Silvia Toffanini il suo viaggio personale attraverso il dolore, la perdita e la rinascita. La sua storia è iniziata con la devastante perdita dei suoi genitori. Il 2023 è stato un anno devastante, ha detto con voce tremante. Ha descritto come la scomparsa di suo padre, un uomo fino allora vitale e attivo, sia stata un colpo improvviso, soprattutto dopo una battaglia persa a seguito di una frattura al femore. L'operazione era andata bene, ma lui non ha voluto reagire, ha rivelato con occhi lucidi. Poi, con la stessa intensità, ha raccontato la lotta della madre contro una malattia che le ha rubato la memoria e l'identità. Vedere mia madre malata è stato difficilissimo, ha confidato, aveva cominciato con dimenticanze gestibili, ma poi è peggiorata. Il suo racconto ha toccato profondamente, esprimendo la sua paura di condividere lo stesso destino. In mezzo a questo mare di dolore, un altro uragano ha colpito la sua vita, la fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli. Un evento che è apparso come un fulmine a ciel sereno, aggiungendo un altro livello di sfida emotiva. In un momento in cui avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere, purtroppo è successo anche questo, ha detto con un misto di rimpianto e resilienza. Nonostante la tempesta, Roberta Capo ha trovato una bussola nel suo figlio Leonardo, nato nel 2008. Ora Leonardo è il centro della mia vita, mi dà la forza di andare avanti. La sua voce si è riscaldata parlando del figlio, mostrando un lato materno pieno di amore e determinazione. Roberta ha poi parlato con gratitudine delle sue amiche, che l'hanno sostenuta in questi tempi difficili. Le mie amiche mi hanno aiutato tanto a superare questo periodo, ha detto, sottolineando l'importanza del sostegno e dell'amicizia nei momenti bui. Concludendo l'intervista, la Capo ha espresso un cauto ottimismo verso il futuro. Ora sono serena, e guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni. Ha poi aggiunto che, nonostante le sfide, ha ancora molto da realizzare a livello professionale. Questa intervista ha rivelato un lato di Roberta Capo a raramente visto, una donna che, nonostante le avversità e le perdite, è determinata a rialzarsi e a continuare a sorridere, un vero esempio di forza e resilienza. Ciao! 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 Ciao!